Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di un sacco di novità relative al nostro Fortnite e ai prossimi giorni che ci aspettano di questa season Ovviamente ragazzi non mancherò di parlare dell'Infinity Blade che è un punto molto molto dolente che probabilmente Epic Games non aveva considerato essere così come dire non OP squilibrata per le nostre partite Parleremo anche ragazzi del nuovo video che Epic Games sta mandando ad ognuno di voi e non mancheremo ovviamente di trattare il nuovo e la nuova modalità creative che molto molto è presa in considerazione da tutto il team e tutto lo staff di Epic Vi ricordo ragazzi comunque di lasciare un bel pollicione in su Se vi sta piacendo questo video mi raccomando iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica Prima di tutto però ragazzi la domanda come al solito non posso non farvela e aspetto con impazienza i vostri commenti proprio qua sotto La domanda ragazzi è semplicissima Avete scioppato la skin del pupazzo di neve? Fatemi sapere se l'avete presa o avete preso per caso solo il piccone o tutti e due Scrivetemelo qua sotto nei commenti perché secondo me diventerà molto molto rara Ma ciancio alle bande, bando alle ciance ragazzi Andiamo subito a parlare del pass battaglia di questa season molto molto interessante Una cosa che notiamo Se andiamo ragazzi nel nostro pass battaglia alla seconda pagina Quindi quando vediamo anche il livello 11 Come sappiamo sblocchiamo la skin per le armi e per i veicoli di colore verde Assolutamente a tema natalizio Ma ragazzi se noi andiamo nel sito di Epic Games Al video di presentazione del battle pass Ci fa vedere che a livello 11 la skin è diversa Come vedete ragazzi nell'immagine là in alto Il colore è sempre verde ma ci sono delle decorazioni natalizie Per questo non sappiamo se per caso sia una cosa voluta Da parte di Epic Games O semplicemente un errore Che ci fa capire che presto Cominceranno ad uscire le nuove skin per armi e veicoli Magari con delle sfide O magari nello shop Perché potrebbe starci Insomma ragazzi una curiosità Che ci tenevo a dirvi E che secondo me non va assolutamente trascurata Ma ovviamente ragazzi andiamo avanti E parliamo di un altro argomento interessantissimo Ovviamente ragazzi i nostri bellissimi magazzini Chi ha giocato la prima season E credo anche la seconda E forse parte della terza Credo parte della terza Si ricorderà sicuramente uno dei luoghi più belli In assoluto di Fortnite Non sappiamo bene perché Ma ha amato da tutti gli utenti Sia sui forum che su YouTube Ovviamente parlo del Tris di magazzini È quasi confermato ragazzi Che probabilmente torneranno Ripartirà la ricostruzione dei magazzini E forse addirittura Anche la sistemazione del mega cratere Non si sa ancora molto Ma i leakers cominciano a parlarne ragazzi E lo abbiamo anche visto Perché sia ragazzi Nel bunker Quello che c'è a Bosco Blaterante C'è un quadro con i tre magazzini Ma soprattutto Verso la fine Del pass battaglia di questa season Ci sono E c'è proprio La schermata di caricamento Che porta i tre magazzini ragazzi Quindi ovviamente Un'altra curiosità Io personalmente Apprezzavo molto i tre magazzini E spero che torneranno Il prima possibile Ma andiamo avanti ragazzi E parliamo Del video che vi stavo anticipando Poco fa Allora Alcuni di voi L'avranno ricevuto Altri probabilmente Non ancora Fortnite Epic Games Sta inviando Un video personalizzato Ad ognuno Dei propri giocatori Che contiene Al suo interno Le statistiche Della scorsa season Penso I colpi alla testa I materiali presi I nemici uccisi Insomma Un sacco di cose Allora Loro ci dicono Se Come si dice Se Non lo avete ricevuto Dovete Acquistare il battle pass Di questa season Ci dicono Come fare E dovete Completare 20 sfide Settimanali E iscriversi Alla loro newsletter Credo che basta Solo che su google Sul loro sito Di fortnite.com Cerchiate la sezione Newsletter E vi farà Di certo Iscrivere Con la vostra email In questo modo Sarete elegibili Per avere Il vostro video E nel giro Di pochi giorni Vi arriverà Via mail Un video Fatto apposta Per voi Con tutte le vostre Statistiche Di fortnite E un piccolo montaggio Alcuni dei miei Lickers Lo hanno ricevuto Io personalmente Non lo so neanche Perché non ho guardato La mail Ma è un'altra cosa Interessantissima Che vale la pena Di avere come ricordo Personale Di come si è Di come ci siamo Comportati nella season Appena finita Andiamo comunque avanti Ragazzi E parliamo Della modalità Creative Ovviamente una modalità Per la quale Epic Games Conta davvero Tantissimo Punta davvero Tanto Non sappiamo ancora Molto di questa modalità Su come verrà poi Portata Nel Battle Royale Ovviamente sapete Che dove c'era Rapide rischiose Verranno montate Le città Le costruzioni Più belle Fatte dagli utenti Ci dicono Ovviamente Ragazzi Con un tweet Sulla loro pagina Che adesso La modalità creativa È libera E disponibile Per tutti Quindi Vi invitano Ragazzi A prendere il vostro team E a dedicarvi Qualche ora Del vostro tempo Per fare Qualche creazione E quindi Salvarla Loro sicuramente La visioneranno E poi valuteranno Le migliori Ogni tot Di giorni Tra l'altro Ragazzi Guardate Per esempio Questa immagine Che vi voglio Fare vedere È di un utente Che tra l'altro La skin Ion GG È veramente Meravigliosa Sembra una città Fatta dagli Sviluppatori Di Fortnite Invece È una città Fatta Con la modalità Creative Veramente Molto molto bella Potrebbe essere Una grande Candidata Per i prossimi Giorni Per inserire Appunto Quello che andrà A occupare Il posto Di rapide E tra l'altro Ragazzi Oltre A questa immagine Che vi ho fatto Vedere Voglio anche Farvi vedere Un trailer Che ha Pubblicato Un utente E che omaggia Veramente Tantissimo La modalità Creativa Vi lascio Al trailer Che davvero molto molto bello ragazzi come trailer probabilmente potranno anche pensare di prenderlo in considerazione per promuovere questa modalità e quindi ragazzi non perdete tempo mi raccomando dedicatene un pochettino magari la vostra creazione arriverà proprio nel battle royale mondiale ma andiamo avanti ragazzi e volevo parlarvi di un'altra figata lo state vedendo alle mie spalle molti di voi lo conoscono lo zapotron ragazzi allora i leakers confermano che le voci sono quasi vere ragazzi comunque le fonti sono attendibili potrebbe tornare questa volta per davvero in questa season la zapotron e io mi viene a me viene da dire hanno messo la infinity blade perché non mettere la zapotron ragazzi è l'arma è una specie di cecchino tra virgolette ma la potete usare anche da media distanza che era già presente nel battle royale e che sicuramente molti di voi si ricorderanno ovviamente appena avrò delle nuove notizie ve lo dirò sicuramente voi cominciate a prenderla un po così e chiudo ragazzi parlando è dell'infinity blade che è quello che in realtà è sulla bocca di tutti arriverà ragazzi un nerf per la infinity blade praticamente modificheranno ragazzi un aspetto fondamentale il giocatore che otterrà la spada dell'infinito la infinity blade non potrà più né costruire né prendere materiale è un piccolo nerf che dicono faranno per evitare appunto che diventi troppo p il giocatore che ce l'ha ma dicono anche che tengono in considerazione l'ipotesi di poter applicare ulteriori modifiche all'infinity blade beh ragazzi direi che per oggi è davvero tutto voglio ringraziarvi tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao